la principessa tsekov nel grande portone cosiddetto decorato del convento maschile di entrò una carrozza tirata da quattro ben pasciuti e bei cavalli i monaci sacerdoti e i novizi che stavano in folla vicino alla parte della foresteria riservata ai nobili riconobbero ancora di lontano dal cocchiere e dai cavalli nella dama che era seduta in carrozza la loro buona conoscente principessa vera gavrilovna un vecchio in livrea voltò giù di serpa e aiutò la principessa ad uscire dal cocchio e la sollevò il velo scuro e senza fretta si avvicinò a tutti i monaci sacerdoti per riceverne la benedizione poi fece col capo un cenno gentile ai novizi e si avviò verso le camere ebbene vi siete annoiati senza la vostra principessa diceva ai monaci che le portavano dentro i bagagli non sono stata da voi per un mese intero beh eccomi giunta guardate la vostra principessa e dov'è il padre archimandrita dio mio ardo dall'impazienza meraviglioso meraviglioso vecchio dovete essere orgogliosi di avere un tale archimandrita quando entrò l'archimandrita la principessa mandò un grido di giubilo incrociò le mani sul petto e si accostò per averne la benedizione no no lasciate che vi baci la mano disse afferrandogli la mano e baciandola avitamente tre volte come sono lieta santo padre di vedervi voi credo avete dimenticato la vostra principessa ma io ho vissuto mentalmente ogni minuto nel vostro caro monastero come si sta bene qui da voi in questa vita consacrata a dio lontana dal mondo delle vanità c'è un certo particolare fascino santo padre che io sento con tutta l'anima e non posso ridire a parole alla principessa si fecero losse le guance e spuntarono le lacrime parlava senza tregua con calore e l'archimandrita un vecchio sulla settantina serio brutto e impacciato taceva e solo ogni tanto diceva a sbalzi e alla militare proprio così eccellenza obbedisco comprendo mi è piaciuto di favorire da noi per molto tempo e gli domandò oggi passerò la notte da voi e domani andrò da claudia nicolaievna è già un pezzo che non ci siamo vedute ma a post domani tornerò qui e mi fermerò un tre o quattro giorni qui da voi voglio riposarmi l'anima santo padre la principessa amava frequentare il monastero di nmsk negli ultimi due anni era un'affezionata a quel posto e ci veniva quasi tutti i mesi estivi soggiornandovi ogni volta due giorni o tre e a volte anche una settimana i timidi novizi il silenzio le volte basse l'odor di cipresso le modeste refezioni le tendine da poco prezzo alle finestre tutto ciò la commoveva la inteneriva e la disponeva alla meditazione e ai buoni pensieri le bastava passare nelle stanze una mezz'ora perché cominciasse a parerle di essere anche lei timida e modesta di mandare anche lei odordici presso il passato dileguava chissà dove lontano perdeva il suo valore e la principessa cominciava a pensare che nonostante i suoi 29 anni somigliava molto al vecchio archimandrita e al pari di lui era nata non per la ricchezza non per la grandezza terrena e per l'amore terreno ma per una vita quieta appartata dal mondo crepuscolare come quelle stanze accade a volte che nella buia cella del digiunante immerso in preghiera faccia capolino a un tratto impensatamente un raggio di sole o che accanto alla finestra della cella si posi un uccellino e intoni la sua canzone l'austero digiunatore involontariamente sorride e nel suo petto sotto alla grave ambascia per i suoi peccati come di sotto a un masso a un tratto scorre quale un ruscello una silenziosa e pura gioia alla principessa sembrava dire calconse dall'esterno proprio la stessa consolazione che un raggio di sole o un uccellino il suo affabile giocondo sorriso il suo amite sguardo la sua voce e le sue celie in generale tutta lei piccola ben fatta vestita ad un semplice abito nero doveva con la sua apparizione suscitare in quegli uomini semplici e austeri un senso di intenerimento e di gioia ognuno guardandola doveva pensare Dio ci ha mandato un angelo e sentendo che ognuno involontariamente pensava così e la sorrideva anche più affabile e cercava di somigliare a un uccellino bevuto il tè e riposatasi uscì a passeggiare già era calato il sole il giardino del monastero alitò sulla principessa la fragrante umidità della reseda appena innaffiata dalla chiesa giunse un canto sommesso di voci maschili che da lontano riusciva molto piacevole e malinconico si stava cantando il vespro nelle finestre buie dove brillavano i miti lumini delle lampade sacre nelle ombre nella figura di un vecchio monaco seduto nell'atrio accanto a un'immagine con la cassetta delle lemosine stava scritta tanta placida quiete che alla principessa chissà perché venne voglia di piangere e fuori del portone nel viale tra il muro e le betulle dove stavano delle panche era già sera del tutto l'aria si oscurava molto rapidamente la principessa fece un giretto per il viale sedette su una panca e divenne pensosa pensava che sarebbe stato bello stabilirsi per tutta la vita in quel monastero dove la vita era quieta e placida come una sera estiva sarebbe stato bello dimenticar del tutto l'ingrato, dissoluto principe, l'immenso patrimonio i creditori che ogni giorno la disturbavano le proprie disgrazie, la cameriera d'ascia che quella mattina aveva avuto in viso un'espressione insolente sarebbe stato bello restare tutta la vita lì, sulla panca, a guardare attraverso i tronchi delle betulle come in basso a valle vagava a fiocchi la nebbia serale come lontano lontano sopra il bosco come una nuvola nera simile a un velo le gracchie volavano verso i notturni riposi come due novizi uno in groppo a un cavallo pezzato, l'altro a piedi cacciavano i cavalli verso il pascolo notturno e lieti della loro libertà folleggiavano come bambini le loro giovani voci eccheggiavano sonore nell'aria immobile e se ne poteva afferrare ogni parola è bello stare a sedere e tendere l'orecchio al silenzio ora soffia il vento e sfiora le cime delle betulle ora una rana fa scrociare il fogliame dell'anno passato ora, di là dal muro, l'orologio di un campanile batte un quarto ne passò davanti una vecchia con una bisazza la principessa pensò che sarebbe stato bello fermar quella vecchia e dirle qualcosa di gentile, di cordiale aiutarla ma la vecchia nemmeno una volta si guardò indietro e svoltò alla cantonata dopo poco apparve sul viale un uomo alto dalla barba canuta e in cappello di paglia giunto dinanzi alla principessa egli si tolse il cappello e si inchinò e dalla sua ampia calvizia e dal suo naso appuntito e arcuato la principessa riconobbe in lui il dottor Mikhail Ivanovic che un cinque anni prima era stato in servizio da lei ad Ubovichi rammentò che qualcuno le aveva detto come a quel dottore l'anno precedente fosse morta la moglie e le venne il desiderio di mostrargli simpatia di confortarlo dottore voi probabilmente non mi riconoscete domandò sorridendo affabile no principessa io ben riconosciuta disse il dottore levandosi un'altra volta il cappello beh grazie se no pensavo già che voi aveste dimenticato la vostra principessa gli uomini ricordano soltanto i loro nemici e gli amici li dimenticano anche voi siete venuto a pregare io passo qui la notte ogni sabato per dovere di servizio curo qui i malati beh come ve la passate domandò la principessa sospirando ho sentito che vi è mancata la consorte che sventura sì principessa per me è una grossa sventura che fare dobbiamo sopportare con umiltà le disgrazie senza il volere della previdenza nemmeno un capello cade dalla testa dell'uomo sì principessa all'affabile mite sorriso della principessa e ai suoi sospiri il dottore aveva risposto freddo e asciutto sì principessa anche l'espressione del suo viso era fredda asciutta che cosa dirgli ancora pensò la principessa quanto tempo però siamo stati senza vederci e la disse cinque anni in questo tempo quant'acqua è corsa al mare quanti cambiamenti sono avvenuti perfino a pensarci fa paura voi lo sapete io mi sono sposata la contessa sono diventata principessa e ho già fatto in tempo a separarmi dal marito sì ho sentito molte prove mi ha mandato il dio voi probabilmente avete pure sentito che sono quasi rovinata per i debiti del mio sciagurato marito mi hanno venduto Dubovki e Kriakovo e Sofino mi sono rimasti soltanto Baranovo e Michalcevo è terribile guardarsi indietro quanti mutamenti quante disgrazie di vario genere quanti errori sì principessa molti errori la principessa si turbò un poco e la conosceva i propri errori erano tutti di carattere intimo a tal punto che lei sola poteva pensarci e parlarne non si trattenne dal domandare a quali errori pensate? ne avete fatto cenno dunque li conoscete rispose il dottore e fece un risolino perché mai parlarne? no dite dottore mi sarò molto grata e ve ne prego non fate cerimonie con me mi piace sentir la verità io non sono vostro giudice principessa non siete giudice? con che tono parlate? allora sapete qualche cosa? dite se lo desiderate sia pure soltanto purtroppo io non so parlare e non sempre mi si può capire il dottore riflette e cominciò così errori molti ma propriamente il principale di essi a mio avviso è lo spirito generale con cui che ha regnato in tutti i vostri possedimenti vedete io non so esprimermi cioè l'essenziale è il disamore l'avversione agli uomini che si sentiva positivamente in tutto su questa avversione era costruito da voi tutto il sistema di vita avversione alla voce umana alle facce alle nuche ai passi insomma a tutto quel che costituisce una persona a tutte le porte sulle scale stanno l'anzichenecchi ben pasciuti grossolani e pigri in livrea per non lasciare entrare in casa la gente non decorosamente vestita nell'anticamera stanno sedie con alte spagliere perché durante i balli e i ricevimenti i domestici non insudicino con le nuche le tappezzerie delle pareti in tutte le stanze pelosi tappeti perché non si sentono i passi umani ogni persona che entra viene obbligatoriamente avvertita di parlare più piano e meno che può e di non dire cose che possano malamente influire sull'immaginazione e sui nervi e nel vostro studio non si porge la mano alle persone e non le si prega di sedere esattamente come voi di anzi non mi avete dato la mano e non mi avete invitato a sedere e volentieri se volete disse la principessa tendendo la mano e sorridendo in verità arrabbiarsi per una simile inezia ma forse che io mi arrabbio si mise a ridere il dottore ma subito dopo si è accesa in volto si tolse il cappello e agitandolo prese a dire con calore parlando francamente ormai da un pezzo attendevo l'occasione di dirvi tutto cioè voglio dire che voi considerate tutti gli uomini napoleonicamente come carne da cannone ma Napoleone perlomeno aveva una qualche idea invece voi oltre l'avversione non avete nulla io ho avversione alla gente sorrideva la principessa stringendosi stupita nelle spalle io sì voi vi occorrono dei fatti e sia amicalcevo da voi vivono di carità tra ex cuochi vostri che sono accecati nelle vostre cucine per il calore delle stufe tutto quel che c'era di sano di forte e di bello nelle vostre decine di migliaia di desiatine tutto è stato preso da voi e dai vostri parassiti per farne lanzichenecchi domestici cocchieri tutti questi esseri vivi a due gambe sono stati educati nel servilismo si sono rimpinzati sono arrozziti hanno perduto ogni immagine e somiglianza umana in una parola i giovani medici gli agronomi i maestri i lavoratori intellettuali in genere dio mio li strappano alle occupazioni serie all'onesto lavoro e li obbligano per un tozzo di pane a partecipare a varie commedie di burattini delle quali ogni uomo per bene prova vergogna il tal giovane non presta servizio nemmeno tre anni che già diventa ipocrita striscione delatore è bello questo i vostri amministratori polacchi quelle ignobili spie tutti quei casimire e caetani scorrazzano da mattina a sera per decine di migliaia di desiatine e per compiacervi si sforzano di levar via tre pelli a ogni bue permettete io mi esprimo senza ordine ma non fa nulla la gente semplice in casa vostra non è tenuta in conto di uomini e anche quei principi conti e vescovi che venivano da voi li riconoscevate solo come decorazione e non come persone vive ma la cosa principale la cosa principale che mi indigna più di tutto è l'avere un patrimonio di oltre un milione e non far nulla per la gente nulla la principessa stava a sedere meravigliata sgomenta offesa senza sapere che cosa dire o come comportarsi mai prima le avevano parlato con un simile tono la voce sgradevole irritata del dottore e il suo parlare sgraziato e balbettante ne producevano negli orecchi e nel capo un rumore aspro e martellante ma poi cominciò a parerle che il dottore desticolando la colpisse sulla testa col suo cappello è falso e la proferiva piano e con voce supplichevole per la gente io ho fatto molto di buono voi stesso lo sapete ma basta gridò il dottore possibile che voi continuate ancora a stimare la vostra attività benefica qualcosa di serio e di utile e non una commedia di burattini quella infatti è stata una commedia dal principio alla fine è stato un gioco all'amore del prossimo il gioco più scoperto e perfino i bambini e le donnette sciocche capivano prendiamo anche solo quel vostro come chiamarlo ospizio per vecchia senza parenti dove mi obbligaste a essere qualcosa come un dottore capo mentre voi ne eravate la curatrice onoraria oh signore che istituzione carina la vostra fu costruita con pavimenti di legno e con la banderuola sul tetto furono raccolte nei villaggi una decina di vecchie e costrette a dormire sotto coperte di baglietta su lenzuola di tela d'olanda e a mangiare zucchero candito il dottore sbuffò a ridere malignamente nel cappello e continuò in fretta e balbettando era un gioco impiegati i subalterni dell'asilo chiudevano coperte e lenzuola sotto la chiave perché le vecchie non le imbrattassero dormissero pure quelle pepaiuole del diavolo sul pavimento le vecchie non osavano né sedere sul letto né indossare la camicetta né passare sul pavimento levigato tutto si serbava per le parate e si nascondeva alle vecchie come fossero ladri e le vecchie si cibavano di soppiatto e si vestivano delle mosine e giorno e notte pregavano dio per uscire al più presto di prigione e sottrarsi alle salutali edificazioni dei farabutti sazi ai quali voi avevate affidato la loro sorveglianza e gli impiegati superiori che facevano è una cosa semplicemente deliziosa un paio di volte per settimane così la sera galoppavano via 35.000 corrieri ad annunziare che il giorno dopo la principessa cioè voi sarebbe stata all'ospizio ciò vuol dire che il giorno dopo bisognava piantare i malati vestirsi e andare alla parata bene arrivo là le vecchie vestite di tutta roba pulita e nuova sono già schierate in fila e attendono accanto a loro cammina il topo di guarnicione in ritiro l'ispettore con il suo sorrisetto svolcinato da delatore le vecchie sbadigliano e si scambiano occhiate ma han paura di mormorare aspettiamo galoppa via il vice amministratore mezz'ora dopo di lui l'amministratore capo poi il direttore capo dell'ufficio economico poi ancora qualcuno e ancora qualcuno galoppano senza fine tutti hanno facce misteriose e solenni aspettiamo aspettiamo scalpicciamo guardiamo l'orologio tutto ciò in un silenzio di tomba perché noi tutti ci odiamo a vicenda e siamo in guerra a coltello passa un'ora un'altra ed ecco finalmente compare in lontananza una carrozza e e il dottore sgrosciò in un riso sottile e proferì con una vocetta esile voi scendete di carrozza e le vecchie streghe a un comando del topo di guarnigione cominciano a cantare quanto glorioso sia il signor nostro in Sion la lingua non può dire non c'è male il dottore scoppiò a ridere in tono di basso e fece con la mano un gesto come desiderando mostrare che dalle risa non poteva pronunziare una sola parola rideva di un riso greve aspro coi denti fortemente serrati come ridono gli uomini cattivi e dalla sua voce dal viso e dagli occhi brillanti e un pochino sfrontati si poteva capire che disprezzava profondamente e la principessa e l'ospizio e le vecchie in tutto ciò che in modo così poco abile e così rude aveva raccontato non c'era nulla di buffo e di allegro ma egli rideva forte con gusto e perfino con gioia e la scuola continuò respirando affannosamente dal gran ridere ricordate come voleste insegnare voi stessa ai figli dei contadini dovevate insegnar molto bene perché ben presto tutti i ragazzetti si dispersero tanto che poi toccò frustarli e pagarli perché andassero da voi e ricordate come voleste nutrire di persona col poppatoio i bambini lattanti le cui madri lavoravano nei campi voi andavate per il villaggio lamentandovi che di quei lattanti a vostra disposizione non ce ne fossero tutte le madri li prendevano con sé nei campi poi lo starosta ordinò alle madri di lasciarvi a turno i lattanti per vostro sollazzo cosa stupefacente tutti fuggivano lontano dai vostri benefizi come i sorci dal gatto e perché questo semplicissimo non perché il popolo da noi sia ignorante e ingrato come voi spiegavate sempre ma perché in tutti i vostri ghiribizi scusate la mia espressione non c'era amore e carità nemmeno per un centesimo c'era soltanto il desiderio di divertirsi compupato le viventi e null'altro chi non sa distinguere gli uomini dalle cagnoline non deve occuparsi di beneficenza vi assicuro che tra gli uomini e le cagnoline c'è una grossa differenza alla principessa andatevene disse con voce piangente levando in su le mani per ripararsi la testa dal cappello del dottore andatevene e come vi comportate coi vostri dipendenti continuava a indignarsi il dottore voi non li avete in conto di uomini e li trattate come gli ultimi dei furfanti per esempio permettete che ve lo domandi per che cosa mi licenziaste avevo servito onoratamente per dieci anni vostro padre poi voi senza conoscere né feste né licenze mi ero guadagnato l'amore di tutti per cento verste all'intorno e tutt'antratto un bel mattino mi si dichiara che non sono più in servizio per che cosa tutt'ora non capisco io un dottore in medicina un nobile che ha studiato all'università di Mosca un padre di famiglia se non essere così minuscolo e così insignificante che mi si può cacciar fuori a pedate senza spiegarne i motivi perché far cerimonie con me ho sentito poi che mia moglie a mia insaputa era venuta tre volte da voi in segreto a pregarvi per me e che voi non l'avevate ricevuta nemmeno una volta si dice che piangesse nella vostra anticamera e io questo a lei alla morta non lo perdonerò mai mai il dottore Tacque e serrò i denti pensando intensamente che cosa potesse ancora dire di molto sgradito per vendicarsi si rammentò di qualcosa e il viso accigliato e freddo a un tratto gli si fece raggiante prendiamo anche solo i vostri rapporti con questo monastero si mise a dire con Bramosia voi non avete mai risparmiato nessuno e quanto più sacro il luogo tanto maggiori sono le probabilità che gli tocchi il fatto suo dalla vostra misericordia e dalla vostra angelica mansuetudine perché venite qui che cose vi occorre qui dai monaci permettete la domanda e cos'è Ecuba per voi e che siete voi per Ecuba una volta ancora è un passatempo un gioco una profanazione della personalità umana e nulla più voi infatti nel dio dei monaci non credete voi avete in cuore un dio vostro proprio al quale siete giunta con la vostra mente nelle sedute spiritiche i riti della chiesa li considerate con indulgenza alla messa e a vespro non andate dormite fino a mezzogiorno perché dunque venite qui andate nel monastero altrui col vostro dio e immaginate che il monastero stimiciò un sommo onore per sé come potrebbe non essere così domandate un po' tra l'altro quanto costino ai monaci le vostre visite vi siete compiaciuta di arrivare qui ieri sera e già ieri l'altro c'era stato un messo a cavallo inviato dall'amministrazione ad avvisare che vi accingevate a venire tutto il giorno ieri han preparato le stanze per voi e vi hanno attesa oggi è arrivata l'avanguardia una cameriera sfacciata che corre di continuo attraverso il cortile fa frusciar la veste assilla con domande dispone non la posso soffrire oggi oppure un minuto libero e voi di continuo lo fate chiamare nelle vostre stanze nessun rispetto né per la vecchiaia né per la dignità meno male se faceste grandi oblazioni la cosa non sarebbe più tanto offensiva ma invece in tutto il tempo i monaci anche solo cento rubli da voi non li hanno ricevuti quando la principessa si inquietava non la si capiva la si offendeva e quando lei non sapeva che cosa dovesse dire e fare allora di solito cominciava a piangere anche adesso alla fin fine si coprì il volto e si mise a piangere con una vocetta esile infantile il dottore tacque a un tratto e la guardò il viso gli si oscurò e si fece austero perdonatemi principessa disse sordamente mi sono abbandonato a un cattivo sentimento e ho trasceso è male e dopo aver tossito impacciato dimenticando di rimettersi il cappello si allontanò in fretta dalla principessa in cielo già sfavillavano le stelle dall'altra parte del monastero doveva andar sorgendo la luna perché il cielo era chiaro limpido e soave lungo il muro bianco del monastero volteggiavano senza rumore i pipistrelli l'orologio batte i tre quarti di non so che ora delle nove probabilmente la principessa si alzò avviandosi ad agio verso il portone si sentiva offesa piangeva e le sembrava che anche gli alberi le stelle e i pipistrelli la compiangessero e l'orologio aveva melodicamente battuto l'ora solo per mostrarle simpatia piangeva e pensava che per lei sarebbe stato bello andarsene per tutta la vita in un monastero nelle silenziose selestive avrebbe passeggiato solitaria per i viali offesa e insultata incompresa dagli uomini e unicamente dio e il cielo stellato avrebbero veduto le lacrime della povera martire in chiesa continuava ancora il vespro la principessa si fermò e tese l'orecchio al canto come risuonava bene quel canto nell'aria immobile oscura com'era dolce a quel canto piangere e soffrire giunta in camera sua si guardò nello specchio il viso rosso di pianto e si insipriò poi sedette a cena i monaci sapevano che gradiva lo storioncino marinato i funghetti il malaga e i semplici panforti al miele che lasciano in bocca un odor di cipresso e ogni volta che giungeva ne servivano tutto ciò mangiando i funghetti e bevendoci su il malaga la principessa fantasticava che sarebbe stata definitivamente rovinata e abbandonata che tutti i suoi amministratori fattori impiegati e cameriere per i quali tanto aveva fatto l'avrebbero tradita e si sarebbero messi a dirle villanie che tutta la gente quanta ce n'è sulla terra avrebbe inveito contro di lei ne avrebbe sparlato e riso e l'avrebbe rinunziato al suo titolo principesco al lusso e alla società e sarebbe andata in monastero senza dir nemmeno una parola di rimprovero ad alcuno avrebbe pregato per i suoi nemici e allora tutti di colpo l'avrebbero compresa e sarebbero venuti da lei a chieder perdono ma sarebbe stato ormai troppo tardi e dopo cena si lasciò andare in ginocchio nell'angolo davanti all'immagine e lesse due capitoli del Vangelo poi la cameriera le preparò il letto ed ella andò a dormire stirandosi sotto il lieve drappo bianco e mise un dolce e profondo sospiro come si sospira dopo il pianto chiuse gli occhi e cominciò ad assopirsi la mattina si destò e diede un'occhiata al suo orologio erano le nove e mezzo sul tappeto accanto al letto si stendeva l'angusta viva striscia di luce ed un raggio di sole che veniva dalla finestra e appena appena rischiarava la stanza dietro la nera tendina ronzavano sulla finestra le mosche è presto pensò la principessa e richiuse gli occhi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti